Lo scultore dell'altopiano Marco Martalar è l'artefice di una originale iniziativa artistica su Giacè della Damello, dove assieme ai colleghi Ivan Mariotti e Ruggero Vanelli si sta lavorando per la costruzione di igloo a 2600 metri per ospitare coraggiosi visitatori per la notte nei pressi della capanna Presena. Martalar, lo ricordiamo, è l'artefice del Parco di Selvart, un percorso di Land Art a Roana.